sono i messaggi del dialetto bergamasco esattamente quel dialetto bergamasco che io parlavo da bambino cioè io abitavo allora avevo quattro anni a due chilometri da ieri di bonarte il dialetto che parlava la madonna era quello lì nostro lì di quella zona lì lo parlava perfettamente ogni dico che si spegne un perfetto croato incredibile ogni messaggio è un capolavoro di spiritualità ed è anche un capolavoro letterario è una perla preziosa inimitabile alla quale nulla aggiungere e nulla togliere il padre l'ha detto non ho detto voi dovete custodire i miei messaggi e nulla aggiungere e nulla togliere